Una mostra sull'arte delle forze dell'ordine, dedicata alla poliziotta Sabine Oltman, morta compiendo il suo dovere di agente antiviolenza domestica nel 2011, è stata aperta alla Wallongong Art Gallery, Australia. Può sembrare che il binomio arte-polizia non possa conciliarsi, eppure in questo caso è molto significativo con la missione di Sabine, ufficiale anti-violenze domestiche. Era una donna coraggiosa per tutto quello che ha fatto, per le vittime delle violenze domestiche. Il sergente Tony Di Matteo ha operato le tele per rappresentare l'esperienza vissuta nel settembre 2012, quando è intervenuto nel quadro di un incendio in un sobborgo di Sydney. Era scoppiato un incendio a Bankstown, dove una coppia di studenti asiatici perse la vita. Mi ero domandato come avrei potuto intervenire prima e salvarli. La NSW Police Force è il più antico organismo di polizia d'Australia, e fra i più grandi del settore delle polizie che parlano inglese. La mostra si è tenuta in collaborazione con l'Associazione Australiana per la lotta alle violenze domestiche. La nostra polizia ha tante persone di talento in molti settori. Quest'anno sono state esposte 40 opere di 22 artisti appartenenti alle forze di polizia. La vendita di alcune tele è servita in percentuale a sostenere l'azione della polizia australiana.